Chiusa la scoglina, nuovi problemi di viabilità, l'altezza del comune di Lorsica, aria aperta, quale alternativa? La provinciale è diversi. Grandinata sul Levante, ieri sera Santa Margherita Rigore e Rapallo, neve invece ad alta quota e durante il fine settimana sarà in funzione lo skillift alla cipolla. Sequestro di armi da guerra, operazione della Digos di Genova, tratto in arresto un vicentino. Una vita da social è partita la seconda edizione del progetto della Polizia, una campagna educativa itinerante sull'importanza della sicurezza nei social network. Tutti insieme per ripartire è consegnato un assegno da 2400 euro raccolti durante le tre manifestazioni di dicembre organizzate dalla Virtus Entella a favore dell'Anfas. Corsi per volontari, entro domenica iscrizioni aperte per il progetto di formazione per operatrici di telefono donna e centro di ascolto. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio. Dunque come avete appena sentito dai nostri titoli ancora la viabilità in primo piano con ancora problematiche lungo le strade interne. In particolar modo siamo in Val Fontana Buona, chiusa la provinciale della Scoglina all'altezza del comune di Lorsica per un'altra frana che ha interessato appunto la zona. Facciamo il punto con il servizio. Nuovi problemi di viabilità dalla Scoglina, chiusa all'altezza del comune di Lorsica, per una frana di massi e pezzi di roccia precipitati sulla carreggiata dal ripido versante, alto più di 30 metri, dove resta in bilico anche un macigno da 80 quintali. Lungo la provinciale 23 sono subito arrivati i tecnici e le squadre della viabilità della città metropolitana di Genova per verificare gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza e transitabilità. Per mantenere i collegamenti della zona è stata riaperta la provinciale 85 diversi, utilizzabile come bypass parallelo alla provinciale della Scoglina, dove sono stati completati i lavori di ricostruzione della porzione di carreggiata demolita dalle alluvioni. In quel tratto, per consolidare e ripristinare la strada, è stato costruito un nuovo muro di sostegno in grossi blocchi di pietra locale. La riapertura della provinciale diversi è stata anticipata di una settimana rispetto al previsto, spiegano i tecnici, per garantire comunque un'alternativa di transito durante la chiusura della provinciale della Scoglina. L'urgente necessità dell'apertura ha impedito di ultimare gli interventi con nuove asfaltature, ma su quel tratto della carreggiata è stato comunque esteso un fondo compatto di ghiaia. E alla luce della chiusura della strada della Scoglina, interdetta da Monleone, i cittadini chiedono a chi transita in zona, passando perversi, di procedere a rilento, poiché l'arteria è stretta e spesso, oltre agli automobilisti, circolano anche i mezzi pesanti che raggiungono le cave. Dunque è bene essere prudenti durante il percorso utilizzato, come detto, anche dai camion. Neve a quote alte nell'entroterra, grandine lungo la costa. Così si è presentata la giornata di ieri e anche la notte scorsa nel Tiguglio. Vediamo. Ieri nell'entroterra si sono verificate forti nevicate che hanno reso invernale il paesaggio. Alle 5 di questa mattina ha smesso di nevicare su tutto il territorio della città metropolitana e tutte le strade sotto la giurisdizione del nuovo ente sono transitabili grazie agli sgomberi effettuati ieri. In Val Daveto la neve è caduta solo a quote superiori ai 500 metri. Sono stati eseguiti sgomberi sulle strade principali di Valico ed è stata disposta la consueta chiusura del Passo del Pescino, strada provinciale 72, concordata con la provincia di Palma, mentre la strada provinciale 75 del Penna era già chiusa per la chiusura stagionale. Nelle valli Graveglia e Sturla sono stati eseguiti sgomberi sui valichi della strada provinciale 26, Passo del Biscia, strada provinciale 26 Bis, Passo del Bocco e strada provinciale 49, Passo Ghifi. In Val Fontana Buona è caduta neve solo sui valichi di collegamento con la Val Trebbia. Sulla costa invece si è abbattuta un forte temporale con tanto di grandinata da Bogliasco fino a Santa Margherita Ligure e Rapallo. Quindi sia nel Golfo Paradiso che in quello del Tiguglio. In alcune località, inoltre, nella serata di ieri si sono verificati blackout a causa del fortissimo temporale, in particolare a Sori. La regione Liguria ha chiuso la sala operativa della protezione civile che era stata aperta per monitorare la situazione. E adesso facciamo il punto in merito alla situazione attuale dal punto di vista meteo e poi in particolare vediamo che cosa ci aspetta in Val d'Aveto per il fine settimana. Situazione meteorologica in montagna. La Santo Stefano Servizi informa che sabato e domenica, e se sarà possibile anche lunedì prossimo, sarà in funzione lo skillift al Prato della Cipolla. In più viene battuta la pista di fondo, dal Tomarlo fino al Monte Penna. A quote più alte la neve è ancora poca, viene spazzata via dal vento, ma si spera che le temperature rimangano basse e possa nuovamente nevicare. In ogni caso è possibile trascorrere il fine settimana in Val d'Aveto e comunque i gattisti sono all'opera per aprire, oltre allo skillift, il tappi rullando al campo scuola del Prato della Cipolla. Se il manto nevoso dovesse aumentare, si potrà procedere con l'apertura della parte alta. Le informazioni si aggiornano di ora in ora in base alle condizioni meteo. Intanto sarà battuta la pista di fondo Tomarlo, Casermette del Penna, Incisa, Redi Coppe. Ed inoltre è sempre possibile vedere la webcam consultando il sito www.sciclabsantostefano.it E diamo uno sguardo alle previsioni per domani indicate dal centro ARPAL della regione Liguria. Nubi residue, venti forti e mare mosso. C'è la segnalazione di avviso da parte della protezione civile di disagio per il freddo e rischio di gelate, in particolare nelle zone interne. Lo stesso avviso resta valido anche per sabato, giornata durante la quale splenderà il sole, ma come detto nell'entroterra persisterà ancora il rischio di qualche locale gelata e disagio per il freddo. Dalla serata ingresso di venti di tramontana. Ancora bel tempo e temperature in calo durante la giornata di domenica. Lutto a Santa Margherita Ligure. È mancato Giuseppe Beppe Toncelli. È mancato stanotte all'età di 70 anni. Bancario in pensione, noto soprattutto nel quartiere di Corte, era nato a Pisa nel 1945. È stato tra i fondatori dell'associazione Lo Scoglio di Sant'Erasmo e volontario della Croce Verde di Santa Margherita. Lascia la moglie Maria Grazia Beretta e il figlio Graziano, che è il presidente del Roma Club Santa Margherita e Portofino. Il rosario sarà recitato domani nella chiesa di Sant'Erasmo. I funerali si svolgeranno invece sabato. La cronaca con il sequestro di armi da guerra. Un'operazione importante, quella della Digos di Genova, tratto in arresto un vicentino. Sentiamo. A seguito di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, il personale della Digos di Genova ha perquisito un cittadino vicentino sottoposto a indagini perché è sospettato di detenere illegalmente armi da guerra e armi comuni da sparo. L'uomo incensurato, privo di autorizzazioni di polizia in materia di armi, in passato dipendente civile del Ministero della Difesa, non risulta essere legato a movimenti o di organizzazioni di natura politica. L'attività di polizia giudiziaria si è conclusa con un ingente sequestro di armi da guerra, armi comuni da sparo e sai sciabole. In particolare sono stati sequestrati oltre 20 fucili moschetti italiani risalenti alla Prima e Seconda Guerra Mondiale, alcune pistole con matricola a brasa, alcune decine di baionette e varie munizioni, caricatori ed altri accessori, oltre ad un fucile calibro 9 e numerose altre armi non funzionanti ma prive delle previste certificazioni previste per legge. Il tutto è stato trovato in casa dell'indagato, ad eccezione di un congegnotico di puntamento per artiglieria contraerea leggera che è stato rinvenuto nel garage. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato anche materiale cartaceo ed in formato elettronico che sarà sottoposto ad Accurato Vaglio dalla Digos genovese per il proseguo delle indagini, volte a chiarire la provenienza e la destinazione delle armi sequestrate. L'indagato è stato tratto in arresto. Ed invece i carabinieri della stazione di Casarza Ligure, a seguito di una denuncia querela asporta da due anziani coniugi del posto, hanno denunciato in stato di libertà per atti persecutori una 47enne ed un pensionato 67enne. I due, per motivi riconducibili a rapporti di vicinato, avevano molestato e minacciato ripetutamente la coppia. Invece un ventenne colombiano con precedenti di polizia, residente a Santa Margherita, a seguito di un controllo da parte dei militari della locale compagnia, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 17 centimetri. È stato dunque denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Il cortello è stato sequestrato. Invece la stazione dei carabinieri di Rapallo ha denunciato un 33enne tunisino, celebe operaio, incensurato per guida in stato di ebrezza e guida senza patente. L'uomo, infatti, durante un controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso a guidare un ciclomotore sprovvisto di patentino poiché mai conseguito. E poi era anche in evidente stato di ebrezza alcolica accertata mediante l'utilizzo dell'etilometro. E ancora a Santa Margherita Ligure, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato di Savona di 43 anni, inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno nel territorio emesso dalla Questura di Genova per la durata di tre anni. Appalto ai meri, il Comune non risponde. Il Comitato Rifiuti Zero aveva chiesto lo scorso dicembre all'amministrazione di Rapallo la possibilità di avere accesso agli atti. Il Comitato voleva sapere se è vero che i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti sono inferiori a quelli previsti nel capitolato d'appalto, se l'importo totale delle multe divise per anno cominate dai meri per l'inosservanza di tale capitolato per tutto il periodo di gestione dal 1 dicembre 2010, in che modo tali somme sono state investite. Il portavoce Roberto Mattioli dice altresì che le amministrazioni, anche quelle passate, devono dare informazioni per legge ai cittadini, specie su un argomento tanto delicato come quello della gestione dei rifiuti e in particolare su un appalto come quello in essere con ai meri, che tante polemiche e discussioni ha sollecitato e che la nostra comunità paga con tasse sempre più alte a fronte di servizi scadenti e di bassa qualità, come la percentuale di raccolta differenziata rimasta in questi anni ben al di sotto di quella stabilita per legge, conferma e dimostrata. Chiude Mattioli. E veniamo ancora al supermercato di Via Vecchie Mura a Chiavari. Oggi ad intervenire è il circolo del PD chiavarese appunto, che vuole sottolineare come le valutazioni espresse dal Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale vengano ad avvalorare la tesi che il PD ha sempre sostenuto e cioè che fuori del perimetro della legalità non si danno possibilità di sviluppo economico e civile. Questo è stato infatti il motore autentico, al di là di quello che dice Levaggi, della battaglia che il Partito Democratico, insieme ad altri gruppi dell'opposizione, ha combattuto nei mesi scorsi. Non la difesa degli interessi di qualcuno, a danno di qualcun altro, ma la rivendicazione del primato, delle norme condivise, quale chiave per la tutela dell'interesse collettivo, ha detto il segretario del circolo, Mauro Ferretti. Ed invece il capogruppo di partecipativa a Chiavari, Giorgio Canepa, ha presentato una mozione urgente sugli interventi sul Fiumentella, affinché il comune di Chiavari prenda una posizione. Dice Canepa, nel caso si dovesse fare la cosiddetta colmatina, pur essendo ubicata verso Lavagna, gli eventuali effetti disastrosi si avrebbero soprattutto sulla sponda di Chiavari, in particolare nella zona a monte del ponte della Maddalena. Inoltre l'eventuale depuratore, con condotte per i liquami da Sestri Levante alla foce dell'Entella, nel caso di disastri avrebbe ripercussioni pesanti sulle spiagge di Chiavari, visto che i flussi delle correnti vanno da Levante verso Ponette. Danni causati da Storni, per farvi fronte è possibile ottenere una deroga alla caccia. A comunicarlo è l'assessore all'agricoltura delle comune di Ney, in Val Graveglia, Marco Bertani. È quindi necessario presentare in tempi brevi un congruo numero di segnalazioni. È possibile rivolgersi, dice sempre l'assessore, alle associazioni di categoria per la compilazione dei relativi moduli. Si chiama Una vita da social e si tratta del progetto promosso dalla Polizia di Stato per sensibilizzare soprattutto gli studenti sull'importanza della sicurezza nei social network. Vediamo. È partita la seconda edizione di Una vita da social, la campagna educativa itinerante sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell'adescamento online e sull'importanza della sicurezza della privacy. A realizzarla la Polizia di Stato interessa tutto il territorio per prevenire i rischi e i pericoli della rete. Il progetto approderà a Genova la settimana prossima, dal 27 al 30 gennaio. Gli agenti incontreranno studenti, docenti e famiglie per confrontarsi sui temi della sicurezza online con un linguaggio semplice ma esplicito adatto a tutte le fasce d'età. Secondo una ricerca di scuola.net realizzata per la Polizia di Stato su un campione di circa 10.000 studenti di scuole medie superiori, solo uno studente su cinque afferma che i social hanno un ruolo marginale nelle relazioni. I social network infatti sono ormai diventati uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità. Tra i motivi principali che spingono i ragazzi all'uso dei social ci sono infatti il desiderio di informarsi sia sulle notizie sia su quanto accade ai propri amici e conoscenti ma anche sostituire per ragioni di risparmio economico telefonate ed sms. Quasi l'85% degli studenti appartiene a un gruppo classe su WhatsApp che per la maggior parte di loro costituisce uno strumento equivalente al tradizionale gruppo di studio. Da questo ne discende la necessità di disporre sempre una connessione internet. Quando viene a mancare uno su sei ammette di provare un senso d'ansia e di prodigarsi per ristabilire subito l'accesso alla rete mentre la metà degli intervistati vive questa situazione con fastidio ma senza fretta di riconnettersi. preoccupa in maniera più forte il fenomeno del cyberbullismo. Circa due ragazzi su tre ritengono che fenomeni di questo tipo siano in aumento. Infatti la metà di loro ha avuto esperienza diretta o indiretta di fenomeni così. Per questo motivo 4 su 5 accoglierebbero con favore incontri con esperti per formare gli studenti all'uso dei social. Domani alle 18 si terrà una riunione di consiglio comunale convocata d'urgenza dalla minoranza di Moneglia per trattare il tema del vincolo pubblico insistente sul sedime oggetto di costruzione del parcheggio La Piccola. Il gruppo per Moneglia attraverso Vernengo chiede una maggiore contropartita pubblica dovuta al risparmio da discarica del materiale utilizzato per il ripascimento delle spiagge. Il Tar del Lazio in merito alla decisione sull'Imo agricola non ha confermato la sospensiva dell'obbligo del pagamento ma sembra abbia confermato le pesanti censure al decreto di economia interna e politica agricole facendo presagire una bocciatura nel merito se il governo non lo ritoccherà. Resta comunque aperta un'altra sospensiva su un altro ricorso in calendario per il prossimo 4 di febbraio. Queste sono le parole usate dal vice sindaco di Sestri Levante Pietro Gianelli il quale aggiunge che il Comune oltre ad aver deciso di proporre unitamente ad altre amministrazioni in ulteriore ricorso così come Casarza Ligure sta predisponendo la carta dei diritti del contribuente che porterà all'approvazione del Consiglio Comunale quanto prima. Approvato in Consiglio regionale il piano dell'offerta formativa confermato l'indirizzo scientifico sezione sportivo per il liceo Fortunio Liceti di Rapallo a comunicarlo Roberto Bagnasco il consigliere di Forza Italia che vede finalmente confermata la richiesta che va a soddisfare un'esigenza importante per i giovani e le famiglie del Levante Ligure e dice avevo presentato un ordine del giorno e trattato un'interrogazione in Consiglio regionale a gennaio e a dicembre 2013 finalmente con il prossimo anno scolastico anche il Liceti potrà essere attivata una sezione di indirizzo sportivo con DJ e scuole di ballo sono stati raccolti 2400 euro per l'Anfas alluvionata è il bilancio delle manifestazioni natalizie di dicembre coordinate dalla Virtus Entella vediamo grazie allo spirito di solidarietà dei chiavaresi e non al patrocino del Comune di Chiavari e alla collaborazione della Giunta insieme a tutti gli uffici comunali lo scorso dicembre ha preso il via la rassegna dedicata alla beneficenza per il post alluvione dello scorso 10 novembre rassegna che questa mattina ha permesso di consegnare il contributo di 2400 euro nelle mani del presidente dell'Anfas di Guglio Est Onlus Egre Folgori sono tre le manifestazioni coordinate della Virtus Entella realizzate a Chiavari nell'acqua di un solo mese e che hanno permesso di raccogliere questa somma di denaro il 23 e 26 dicembre i bar del centro prima e del lungomare dopo hanno organizzato delle serate con DJ7 scegliendo di sostenere un contributo per i DJ i quali lo hanno devoluto in beneficenza spiega il direttore artistico della Virtus Entella Sabina Croce notevole è stato anche l'impegno delle scuole di danza che in occasione della festa della Befana hanno organizzato delle esibizioni danzanti nelle piazze della città si tratta di manifestazioni che oltre ad aver permesso di raccogliere un importante contributo benefico hanno aiutato ad animare Chiavari nel periodo festivo subito dopo quello che è stato sicuramente l'evento più devastante per la città negli ultimi decenni uno spettacolo benefico si svolgerà al Teatro Cantero di Chiavari venerdì sera con inizio alle ore 21 la serata benefica in questo caso è a favore della ricostruzione del Parco Giochi Talassano di Chiavari lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio del Comune di Chiavari ed è ideato da Angela De Rosa napoletana Doc molto conosciuta nel comprensorio per vari spettacoli musicali organizzati a favore di varie associazioni benefiche l'evento si avvale della collaborazione dell'Associazione Culturale Echi di Liguria e l'iniziativa prevede un omaggio alla canzone napoletana d'autore adesso parliamo invece di un corso di formazione per operatrici volontarie telefono donna e centro d'ascolto è possibile iscriversi fino a domenica gli incontri poi si svolgeranno a Sestri Levante ma sentiamo i dettagli corso di formazione per operatrici volontarie telefono donna e centro d'ascolto la finalità è quella di preparare nuove operatrici al delicato approccio con le donne vittime di violenza ponendo particolare attenzione alla fase di primo contatto telefonico e di accoglienza il corso è aperto a tutte le donne che vogliono avvicinarsi all'associazione e alla problematica delle donne vittime di violenza per essere ammesse è necessario inviare una mail di presentazione a seguente indirizzo teldonna.chiefchiavari chiocciolalibero.it le domande dovranno pervenire entro domenica le aspiranti volontarie verranno ricontattate per un colloquio gli incontri di formazione si terranno in via Costantino Raffo a Sestri Levante e il calendario sarà così articolato sabato 7 domenica 8 febbraio e ancora il 14 15 febbraio il corso di formazione è finanziato grazie ai proventi del progetto calendario 2015 il potere delle parole realizzato da telefono donna se non ora quando Tiguglio e Tif Tiguglio Fotoforum pertanto le aspiranti volontarie parteciperanno gratuitamente l'istituto comprensivo della torre di Chiavari invece apre le porte alla città attraverso l'organizzazione di un open day è in agenda sabato dalle 10 alle 12 i docenti e gli studenti dell'istituto comprensivo accoglieranno i bambini delle ultime classi della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado per presentare l'offerta formativa della scuola in vista delle nuove iscrizioni per l'anno 2015-2016 poi nella settimana successiva da martedì 27 a venerdì 30 gennaio si realizzeranno anche laboratori pomeridiani di italiano e geografia lingue straniere matematica e scienze e ancora informatica musica coro e movimento cui potranno partecipare attivamente alunni e genitori delle classi quinte della scuola primaria in vista dell'iscrizione alla secondaria di primo grado e sono aperte le iscrizioni al corso di base di lingua esperanto ad organizzarlo il gruppo tiguglio della federazione sperantista italiana le lezioni settimanali si svolgeranno a Chiavari presso l'istituto Caboto di Via Ghio e la partecipazione è gratuita bene ci fermiamo qui grazie per essere rimasti con noi la nuova edizione del Tg domani alle 12.45 vi lascio al meteo la programmazione della rete e vi ricordo che se volete potete rivedere in replica questa edizione del Tg alle 20.20 sul canale 117 di Guglio TV trovate le notizie anche sul nostro sito www.entellatv.net sulla nostra pagina facebook su twitter e trovate il nostro telegiornale anche sul canale youtube è davvero tutto una buona serata previsioni per venerdì 23 gennaio delle nubi residue al mattino in particolare nell'interno del centro levante lasceranno posto a prevalenti rasserenamenti nel corso del pomeriggio venti forti da nord e nord est in parziale calo nel pomeriggio mare localmente mosso in calo fino a poco mosso le temperature previste sulla costa tra 8 e 13 gradi nell'entroterra tra 2 e 11 gradi